E allora? E allora? Tutto a posto? Tutto a posto. E che si dice? Che stava a dire? Siamo ok. Che? E gli chiesco questo. Dalla tonina. Dalla tonina? Sì. Ma volevo un telecomando? Sì, dalla tonina. E che? Io te lo so. Inchia, non so se vuoi un telefonino. Un telefonino perché non ti piace? No, è bellissimo. Storico, ma è bellissimo. Qualche anno fa è storico. Qualche anno fa? Qualche secolo? Io secolo. Inchia, questo appartiene proprio al museo del telefonino. Sì, usava Carbal de Guanita. Diciamo. Più o meno. Ma funziona ancora? Funziona, funziona. Ci puoi chiamare, ci puoi ricevere. Ah, qualcuno ha telefonato. E certo, ci puoi fare. Anzi, fammi chiamare che vuoi chiamare un'amica mia. Un'amica dove? Perché non puoi sapere un'amica. No, perché? Amiche due. Amiche femmine. Amiche volare. Perché amica parco? Amiche, non ho detto amiche. 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 Ma è che si fa? Non hai sapere niente. Femme, no? E' femmina. Medea, signora. Medea? Te lo volevo dire. Greca? No, quale greca? Brasileale. Ah, Brasileale. Allora c'era la sorpresa. No, no, no. Per questa sorpresa non ti voglio. Brasileale è vera questa. Originale. Originale. Tu vuoi dire che cammina con la coscienza di presentare? Sì, tutto il mio amico. Ti andiamo a cisti in Brasile? No, qua in Brasile. Quanto c'è io in Brasile? A Facebook. Tu va a Facebook? Perché? Tu ti stai fottendo giro a Facebook con questo Facebook. Ma piace, tu non lo dà. E' un carico, non lo dà. Non lo dà, non lo dà. Non lo dà, non lo dà, non lo dà. Non lo dà, non lo dà. Ma lo dà su Facebook. E' come essa? C'era questa... Come? Qualche... Qualche cessa sarà? Che cessa? Se non pensi che il nicchio non finisce mai. Voi te la faccio vedere la casa. E' bella. E' bellissima. Bella, bella. Una cosa esagerata. Tu gli fermi una sopra la laurea. E' te ne sono ora. E' te ne sono ora. E' te ne sono ora. Andiamo, andiamo. Che dici? C'è parlato? Vediamo. Vai, vai, faccio il numero. Vai, vai. 3, 3, 8, 7, 5, 4, 6, 8, 9. Vediamo se è squillo, vai. E' brasiliano. E' squillo, squillo. Ma no, venne a thiena! E' una prova per gioco! E' una prova per gioco! ую, squilloare... Ti fa squillare? 100%. Pronto a vedere! Sì, signor! Sì! Cisci! Ma che magucia? Non siamo tutti e punti di… Sì, no niente, niente! Me lo so a gustare! Tutto a posto! Sì, a posto, a posto! E gioco le cieli… E insomma! Ma no! E' un pezzo rischio! Mischia! E' un pezzo che stai! Ma è il pezzo che stai! un colesterolo a posto, si si a posto la colite mi fotte, che vuoi fare? mi fotte, mi fotte mi fotte la colite, che vuoi fare? qualche difettuccio ce l'ho anch'io in fin da conto sono un uomo di mondo e che vuoi fare? si 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 chiamami come? che c'è? che c'è? ma che c'è avuta l'amica? figliaone, figliaone ho capito figlia, ma un'amica c'è un'amica un'amica? una domanda senti, se avessi qualche amica perchè? no, così lo chiedo c'è un mio amico uno di 80 età, molto di tante tu sei di 80, no? passate e hai tanto assai ah non ce l'hai, non ne conosci ah sei da poco in età, ho capito è da poco in età, vabbè, non fa niente non fa niente, non fa niente si chiamami masculazzo masculazzo, sono il tuo masculazzo che c'è? masculazzo masculazzo che l'ha preso, sarò il tuo masculazzo si si si, sai che faccio? vieni dalla casa tua sono un tono sono un tono, sarò il tuo tono un torone un torone, si sarò il tuo torone non è un torone che c'è? che c'è? che c'è? eh no, no, non dicevo a te non dicevo a te, si 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 piglio sai che faccio? vieni dalla casa e ti piglio qua cosa, qua andui granduglia, si granduglia calabrese e canta assai brucia, brucia brucia, brucia brucia, brucia brucia per te capito? e te lo spavano tu te lo spavano si rido perché mi piace mi sto immaginando tutta la sessione è bello, si 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 risponde casa 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 andui che vuoi? si stai io vedendo, stai io vedendo cioè quanto? 5 minuti suoniamo a casa si stai io parlando, io vedo che vuoi? che ti hai a comprare? un prosciutto, si un prosciutto, si si, quanto mi hai a comprare? un etto, un etto senza polifosfato, ho capito tu mi hai detto che stai io venendo stai io venendo oh suoniamo a casa, suoniamo a casa suoniamo a casa ho capito, un etto di prosciutto senza polifosfato BANCA BANCA ma stai facendo appignolata stai mi hai detto che oh un etto di prosciutto però piglia le 5 tacche piglia piglaci e l'era? no, la stanno futtando la stanno futtando la che metti e l'era? a mezzo abbraccio il piano a sorpresa bastardo a cui cosugno io che cazzo siete voi conta uno e due e vede poi così ma noi col giardi le tincello vuole non ha affari nonde vai nonde vai se ci sto compari a cui cosugno io che cazzo siete voi conta uno e due e vede poi cosiamo noi col giardi le tincello vuole non ha affari Grazie a tutti